L'ospedale è rientrato completamente nella piena operatività perché fino a qualche settimana fa avevamo ancora due unità operative non attivate, ad oggi invece sono attive tutte le unità operative come prima del 24 di febbraio del 2020. Un ritorno alla normalità che si respira nell'aria con un via vai di persone all'ingresso dell'ospedale di Vicenza. Certo adesso c'è da recuperare quanto è rimasto in stand by causa Covid. Parliamo dei ricoveri programmati come anche delle visite ambulatoriali, 4.000 prestazioni in tutto che riguardano in particolare il San Bortolo e l'ospedale di 90 Vicentina, le due strutture sanitarie più coinvolte con la pandemia. Qui con quello che si chiama acquisto di prestazioni, cioè chiediamo delle prestazioni più al personale dipendente oppure con un aumento delle ore degli specialisti ambulatoriali contiamo di ritornare alla normalità. Abbiamo fatto un piano che abbiamo presentato i primi giorni di questa settimana, abbiamo tutto il secondo semestre del 2021, quindi abbiamo sei mesi per poter recuperare e contiamo di farlo però già per settembre-ottobre di recuperare tutte le prestazioni. Un anno e mezzo col Covid di lavoro ad oltranza, talvolta senza orari ed ora finalmente è tempo anche per i sanitari di tirare il fiato. Il piano ferie infatti è pronto e almeno 15 giorni di vacanza sono garantiti nonostante rispetto agli anni precedenti ci siano state minori chiusure di reparti. Abbiamo un po' di personale in più, chiamiamolo così, che era stato legato all'assunto a tempo determinato per il Covid, viene mantenuto anche durante il periodo estivo, un po' con qualche riduzione di posti letto in alcune unità operative riusciamo a far fare le ferie a tutti i dipendenti.